Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPL dove per lavori tra Ginestra, Fiorentina e La Strassigna si segnalano rallentamenti in direzione Firenze. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana. Sulla strada regionale 2 via Cassia, senso unico alternato per lavori tra i chilometri 268 e 500 e 269 e 900 circa nel comune di Barberino Tavarnelle. Infine per la viabilità cittadina a Firenze è stata prorogata fino al primo lunedì di aprile la sospensione dell'obbligo di spostare l'auto in occasione della pulizia delle strade. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!